Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Siamo con Francesco Costantino, presidente della fondazione Annemil Sosteniamoli Subito, che opera a livello nazionale e a livello regionale in favore delle vittime del lavoro. Ci spiega, presidente, in cosa consiste l'attività della fondazione? Nel 2005 l'associazione nazionale tra lavoratori e mutilati del lavoro ha dato vita alla fondazione Sosteniamoli Subito, con lo scopo principale di offrire un supporto e un'assistenza alle vittime di rinfortuni sul lavoro e alle malattie professionali, anche per sostenere alcune specifiche situazioni e difficoltà economiche dell'evento e degli orfani e dei recaduti del lavoro, in attesa della costituzione dell'arrenda da parte dell'INEL. Oggi le finalità principali della fondazione vengono all'analizzazione di progetti che abbiano una concreta ricaduta positiva anche in tema di prevenzione delle infortuni della malattia professionali, anche se cerchiamo soprattutto di adoperarci per un'adeguata tutela di coloro che si trovano ad affrontare situazioni difficili e dolorose pagando un ingiusto tributo. Presidente, come opera in modo specifico sul territorio regionale? Chiunque appartenga alla nostra categoria più può rivolgersi presso le sedi territoriale AMMIL, presente in tutto il territorio nazionale, dove ci sono i nostri volontari sempre pronti ad un'accoglienza, un conforto morale, ma poi ci sono anche i rispetti professionisti che si mettono a disposizione per valutare ogni caso e trovare una soluzione a problemi in ambito sociale, lavorativo o per pratiche in AIL. Presidente, proprio di recente tra le iniziative più importanti della fondazione c'è stato un accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Di cosa si tratta? Dopo diversi incontri con il Presidente NECNOB, Davide Lazzari, in cui abbiamo condiviso l'esigenza di offrire un supporto psicologico alle vittime del lavoro e ai loro familiari per poter aiutare ad affrontare e superare il trauma di un infortuno con la malattia professionale che hanno avuto risvolti drammatici. Siamo giunti alla sottoselezione di un protocollo d'intesa che offrirà tramite l'ausilio di professionisti in tutta Italia un valido supporto psicologico a tutti i nostri soci e i loro familiari che ne faranno richiesta con tariffe molto contenute, in attesa che diventi finalmente operativa il nuovo regolamento protesico INAL che prevede il riconoscimento di un'assistenza psicologica. Grazie Presidente e per chiunque è interessato ad usufruire di questo servizio può rivolgersi alle sedi territoriali dell'Associazione dove troverà i referenti della fondazione pronti a dare tutto il supporto. Altrimenti è possibile chiamare il numero verde 800 1809 43 Siamo con il Presidente dell'IRFA Alberto Verzulli per parlare di queste attività che svolge l'ente di formazione dell'ANMIL l'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro su tutto il territorio nazionale e anche in particolare nelle varie province della regione. Presidente Verzulli, questi corsi e queste attività formative dell'IRFA a chi si rivolgono? Si rivolgono soprattutto a coloro che hanno subito un'infortunio sul lavoro quelle persone che comunque hanno rimasto un'invalidità permanente quindi hanno bisogno di essere riformate nell'eventualità in cui dovrebbero essere ricollocati in altri ambiti lavorativi così come i loro familiari, così ancora come le vedo e gli orfani di quelle persone che comunque hanno perso la vita in ambito lavorativo noi aiutiamo anche loro perché fanno parte a prescindere di quello che è la nostra categoria di infortunati sul lavoro. Presidente, i corsi dell'IRFA sono di vario genere? Come si svolgono e su quali argomenti? Allora, i corsi dell'IRFA sono prevalentemente corsi di formazione e di qualificazione perché l'IRFA è proprio questo, il proprio intento è proprio questo l'ANMIL ha inteso di studiare questo istituto proprio per farsi per dare la formazione per un eventuale inserimento lavorativo ci sono corsi tipo aiuto cuoco, tipo murettista, gestione magazzini sono quei corsi appunto anche gestione del verde ci sono dei corsi che proprio puntano a far sì che le persone possano essere riqualificate in altro ambito, riposizionate in altro ambito lavorativo perché magari quello che di fatto prima svolgeva non sono più in grado di svolgerlo ci sono anche altri corsi molto interessanti noi stiamo puntando molto sulla squadra delle testimonianze e sullo storytelling sono quei corsi appunto che danno la possibilità a queste persone di manifestare la propria testimonianza dell'incidente che hanno subito di fatto questo viene fatto attraverso le scuole noi interveniamo, per noi è molto importante fare questo nelle scuole e nell'ambito lavorativo perché facendo questo noi facciamo prevenzione perché raccontare la propria storia alza molto l'attenzione degli studenti dei lavoratori che prendono coscienza e non solo studenti e lavoratori sono molto interessati anche a partecipare a questi avvenimenti anche non ai corsi ma bensì ad ascoltare la testimonianza i professori stessi e i datori di lavoro Presidente, queste meritorie attività dell'AMIL dunque si realizzano con corsi a distanza quindi online e in presenza diciamo il Covid ha insegnato molto in questo senso e quindi l'ente di formazione si è saputo adeguare attraverso le piattaforme di internet per svolgere questi corsi quindi con docenti, professionisti ed esperti chiunque quindi ha bisogno di avere questo tipo di informazione può chiederla alle sedi territoriali per avere notizie o per iscriversi oppure contattare direttamente il numero verde ma è 800-180943 e in ogni caso chiunque ha bisogno di informazioni può anche andare sul sito www.anmil.it Grazie Presidente Buongiorno a tutti sono Feliciano Della Mora Vice Presidente dell'Organizzazione di Volontariato Amici della Fondazione Ordine Mauriziano Vi presentiamo ora un video emozionale dedicato all'abbazia di Santa Maria di Staffalla situata nel comune di Revello vicino a Saluzio in provincia di Cuneo Il video è stato realizzato nell'ambito del progetto presente in collaborazione con la regione Piemonte e grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Potete visionare gli altri due video emozionali dedicati alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e alla palazzina di caccia di Stupinesi sul sito internet www.afompresente.it dove troverete anche le altre attività compiute per il progetto presente pubblicazioni per ragazzi, laboratori nelle scuole e per famiglie QR code per i pannelli illustrativi della precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e tre video emozionali per la promozione dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano dei quali contribuiamo alla valorizzazione Tutta l'attività dell'associazione la potete vedere sul sito internet www.afom.it Buona visione a tutti! Grazie 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 a tutti! momento con te, almeno per un po', posso dire che va tutto bene. Buongiorno, siamo la LAV Lega Antivisezione, siamo non lussi, occupiamo di diritti degli animali, quest'oggi vorremmo parlarvi un po' di altri animali in città, non solo gli animali domestici, ma altri animali che convivono l'ambiente urbano con noi e quindi abbiamo invitato il nostro consulente per l'etologia e il benessere animale, il dottor Moriconi e gli chiediamo di parlarci all'inizio della convivenza con i colombi, poi parleremo anche un po' di nutrie e poi anche di scoiattoli. Ma per quanto riguarda i colombi bisogna dire innanzitutto la prima verità, ovvero che non c'è da avere preoccupazioni che questi animali ci portino delle malattie, questo è importante. L'altro punto è che quando si parla di animali e di convivenza è sempre una questione anche un po' psicologica, perché tempo fa sui colombi c'era una grande attenzione e anche un po' di ritrosia e anche poca accettazione, adesso le cose erano leggermente cambiate e sembra che recentemente qualcuno si lamenti di nuovo per un aumento delle loro presenze. Il problema fondamentale è che in città bisognerebbe controllare le modalità con cui vengono nutriti questi animali, ovvero molte persone anche perché ricercano compagnie e amicizia si dedicano a dare cibo a questi animali. Tutti gli animali in genere gestiscono la loro presenza in base all'alimentazione, più alimentazione c'è e più gli animali si riproducono. Quindi bisognerebbe convincere le persone che svolgono questa attività a fornire innanzitutto a non fornire pane che è un cibo che è assolutamente negativo per gli animali stessi e invece bisogna dare granaglie e però limitare il consumo, limitare la quantità di cibo che gli viene fornito così riusciremo ad ottenere un controllo del numero, oltre che naturalmente bisogna intervenire con dissuasori laddove ci sono dei problemi di possibili danni che gli animali possono arriccare senza esagerare nell'utilizzo di questi dissuasori. In alcune città si provano ad utilizzare anche sistemi di sterilizzazione chimica perché per i colombi l'unico sistema di sterilizzazione è la sterilizzazione chimica. Per quanto riguarda i nutri e scoiattoli? Ecco, le nutri e gli scoiattoli sono animali che naturalmente in ambito cittadino non danno nessun problema, non c'è nessun problema di convivenza serio regato alla presenza di questi animali e su questi animali abbiamo a disposizione la possibilità della sterilizzazione chirurgica, quindi abbiamo la possibilità di intervenire limitando la crescita del numero degli animali senza procurare loro del danno e anche in questo caso bisognerebbe convincere le persone a non fornire cibi non adeguati perché anche questi animali sovente sono oggetti di aiuto con pane, le nutri sono animali erbivori quindi al massimo bisognerebbe dargli delle verdure e gli scoiattoli sappiamo tutti che sono animali che si nutrono essenzialmente di noci, di prodotti di questo genere quindi anche per loro il pane non è adatto, però appunto anche questi animali bisogna dire che assolutamente non provocano problemi di malattie trasmissibili alle persone quindi la convivenza nasce proprio dalla conoscenza di questi animali e da non avere atteggiamenti di persecuzione che poi si riproducono, che si concretizzano nei tentativi di uccisione degli animali. Grazie, vi invitiamo a scriverci alla LAV Torino cercandoci su Facebook e su Internet per con noi fare queste battaglie per la tutela dei diritti degli animali in città e anche fuori città nelle concentrazioni comunque urbane. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Marco Bongi, il presidente dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti Organizzazione di Volontariato. Oggi tratteremo di un argomento particolare ovvero l'attività sportiva per le persone non vedenti e ipovedenti. Si tratta di un'attività che ha un alto valore non solo di carattere sociale o di salute come per tutte le persone, ma ha una valenza anche di tipo riabilitativo perché contribuisce ad assumere una postura corretta e aumenta il livello di orientamento nello spazio. Esistono varie attività sportive che possono essere svolte dai disabili visivi. Innanzitutto abbiamo almeno due discipline che sono state specificamente studiate a favore di queste persone, che sono il torbal, che è una sorta di lancio della palla su un campo rettangolare. I giocatori stanno in ginocchio e la palla deve transitare raso terra sotto delle cordicelle con dei campanelli e anche la palla è dotata di una segnalazione acustica. Il secondo sport specifico per i non vedenti è il showdown, che è una sorta di ping pong che si gioca su un tavolo con delle sponde e che nei lati corti ha anche delle porte e viene, diciamo, giocato con delle racchette. Anche qui la pallina è dotata di una segnalazione acustica. Queste due discipline sportive possono essere giocate anche dalle persone vedenti, ma devono essere bendate, cioè essere messe nelle stesse condizioni dei giocatori non vedenti. Poi esistono molte altre discipline sportive generaliste, diciamo così, che possono essere praticate anche da persone con problemi di vista. Alcune in modo normale, senza particolari accorgimenti, altre magari con dei piccoli adattamenti. Tra quelle generaliste che possono essere svolte tranquillamente dalle persone con problemi di vista, possiamo citare il tandem, cioè quella disciplina ciclistica in cui due persone vanno sulla stessa bicicletta. Ovviamente la persona davanti deve essere un vedente, mentre la persona di dietro è un non vedente. Il nuoto, per cui ci sono tantissime gare anche parolimpiche riservate alle persone non vedenti o ipovedenti. L'unico accorgimento è che nell'approssimarsi della virata spesso l'allenatore tocca sulla testa il nuotatore non vedente per avvisarlo che sta arrivando al bordo della vasca. Poi abbiamo alcuni sport invernali, la discesa, il fondo. Per fare la discesa libera di solito c'è una guida che scia davanti al non vedente con una sorta di altoparlante sulla schiena e che avvisa appunto del tracciato se bisogna andare più verso destra, più verso sinistra, eccetera. Un'altra disciplina molto accessibile alle persone con disabilità visiva è il judo. È una disciplina che in qualche modo si fa sempre a contatto corporeo e quindi la vista non è praticamente molto importante. Possono anche gareggiare persone vedenti e non vedenti insieme. In conclusione vorrei dire che la nostra associazione è molto sensibile a questo tipo di attività sportive a favore delle persone disabili visivi e chi volesse saperne di più certamente avrà la possibilità di contattarci scrivendo alla mail apri-ipovedenti.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento per una nuova trasmissione. Grazie.